Nel giorno della pubblicazione del loro secondo album in carriera, i costiera si sono esibiti presso il club Spazio Culturale 35 Live, a Cava dei Tirreni. L'evento ha rappresentato una ghiotta occasione per il gruppo per presentare Ragazzini, il disco pubblicato con il supporto della casa discografica Futura Dischi e distribuito da Sony Music. Tracce in cui i tre amici e colleghi parlano di periferia e amori conclusi, ma non soltanto. Tra le note, anche l'urgenza e la rivalza di tre validi esponenti della scena musicale underground italiana, pronti a far sentire ancora una volta di che pasta sono fatti. Autore dei sottotitoli e scriviti. A الصuma musicale Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS A maintained a cura di QTSS Grazie a tutti.